Word Lo spazio è B&D di Tommaso di Bracco a Milano e l'artista è Robert Gligoro In questo lavoro, dalla terra alla luna, sono racchiusi tutti i concetti più alti del pensiero umano, le aspirazioni, le rappresentazioni dell'arte contemporanea, le sue radici. L'arte per Robert Gligoro ci mette nuovamente in relazione con noi stessi, mentre la vita è una costante evasione.